Don Cosimo, sul consolino di fronte, dietro c'è il castello Normanno, abbiamo appena inaugurato un sentiero, il sentiero di San Giorgio, in questa che è la ricorrenza liturgica del Santo Patrono di Stilo. Sì, diciamo che liturgicamente sarebbe oggi, ma siccome è domenica in Albis, quindi il Vescovo ci ha chiesto di spostarla settimana prossima alla festa di San Giorgio. Quindi oggi abbiamo fatto solo una breve preghiera, anche con la benedizione del quadro di San Giorgio, e quindi per ricordare questo evento. E devo dire che è stato molto, molto interessante, soprattutto mi colpisce, mi ha colpito anche la fede, la fede dei fedeli. Ho visto persone anche di una certa età salire qui, che non è certamente, non è un itinerario facile, e quindi dettato ovviamente questo desiderio della fede, di scoprire sempre qualche cosa di più della vita di San Giorgio, della devozione popolare, e quindi di unirsi sempre di più al Signore. Quindi ritengo che sia un evento importante e che è stato anche fruttuoso da un punto di vista. Caratteristico è stato proprio questo insieme di cavalli che sono saliti su, e la benedizione anche che abbiamo fatto, veramente una cosa caratteristica e molto bella. Ci sono messi un mese, non dico anni, un mese per costruire questo sentiero, alla fine sono riuscito, proprio la sua data, il 23 aprile. C'era un sacco di gente, avete visto anche voi, i cavalli. Mi è andata male un pochino per le temperature, perché non c'erano i tempi giusti per i pareti in Dio, i scalatori, e via vai. Io sono anche attrezzati sotto delle pareti per fare variari di sport. Per me è un risultato ottimale, è un risultato ottimale perché è un sogno che io mi sono portato dentro, da quando ho sentito per la prima volta la leggenda che descrive come santo protettore di stilo San Giorgio. Perché? Perché nel terremoto del 1783 stilo non ha subito danni e la notte susseguente si è vista una grande luce su al castello e poi andate là per capire il perché si è visto che c'era la statua. È una leggenda, però le leggende molte volte fanno riferimento a delle realtà. La realtà era che stilo è stato indenne in rapporto al terremoto. Tant'è vero che oltre a essere nominato padrono di stilo, il castello non veniva mai citato come castello normanno, ma veniva citato come, in dialetto, i casi San Giorgio. Grazie.